Mi segui? Non ti distrarre. Ma senti a te, chi mi distrae? Atterri la maniglia e con tutta la tafarsa hai un colpo secco e stappi l'enorme ano animale. È chiaro mai? Ma manco mai niente, a me mi fa schifo sta cosa. Allora con te non c'è dialogo, fratello mio. Ma fai stappare curare ogni papona. Ma sono cose naturali. Ma il messo è naturale, a me mi fa schifo. A me mi dammi la mano, fammelo insieme. Ma non sono portato. Io sì, invece. Vabbè, facciamo insieme. Grazie.